Grave incidente nel pomeriggio di domenica 31 gennaio intorno alle 16.30 sulla strada provinciale 565 a Pedemontana all'altezza di Samone. Due vetture, una BMW 318i e una smartphone 2, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato alquanto violento. La BMW è stata scaraventata oltre il guardrail e si è ribaltata adegiandosi su un fianco. La Smart si è invece fermata sulla carreggiata diversi metri dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'ambulanza del soccorso del 118 e i carabinieri della compagnia di Ivrea. Il bilancio è di una persona deceduta e tre feriti. Inutili infatti i tentativi di ranimare la donna che si trovava a bordo dell'albmw, accertamenti in corso sulle cause. Grazie per la visione! Grazie per la visione!